Oggi si celebra la memoria del martirio di San Giovanni Battista. Era cugino di Gesù, il profeta che fa da passaggio tra l'Antico e il Nuovo Testamento, con il compito ben preciso di indicare Gesù come il figlio di Dio venuto a salvarci. Venne fatto decapitare dal re Erode, anche se non era sua intenzione farlo, ma in realtà dovette condannarlo per mantenere una promessa fatta alla nipote figliastra istigata dalla madre Erodiade. Leggiamo infatti, Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode, non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Ecco, desidero richiamare la vostra attenzione su queste ultime parole. Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Ecco, impariamo a non ascoltare solo noi stessi, solo i nostri punti di vista. Impariamo ad ascoltare anche ciò che non rientra nei nostri schemi, ciò che ci può anche lasciare un po' perplessi. Impariamo ad essere curiosi e cercare a non leggere soltanto ciò che conferma i nostri ragionamenti e pensieri. Pensando a Sant'Agostino che abbiamo visto ieri, impariamo ad essere persone che cercano, che sanno ascoltare anche ciò che di primo occhito può lasciarci perplessi. Noi viviamo in un tempo dove pensiamo che continuo solo i pensieri che nascono dal nostro io, dalla nostra mente, che conta solo la mia opinione, tutto nasce da me, non devo lasciarmi influenzare da niente e da nessuno, se no sono condizionato e non libero. È una grande menzogna. Nessuno si fa da solo. Per costruire il nostro pensiero, una visione della vita, occorre leggere, ascoltare, cercare. Il nostro stesso pensiero viene dal passato, da quello che è il nostro passato, da quello che è la nostra storia, da quella che è la nostra cultura. E bisogna, come dicevo, imparare a leggere, ascoltare, cercare e anche ascoltare cose che di primo occhito non ci piacciono. Questo vale anche per la Bibbia. Un libro antico, ricco di insegnamenti sulla vita e la fede. Conosco molte persone, anche non praticanti e non credenti, che ne tengono una copia sul comodino e la leggono. Facciamoci venire un po' di sana curiosità per questo testo sacro. Anche se alcune cose in esso contenute possono lasciarci perplessi, dubbiosi, scettici. Mettiamo da parte preconcetti, pregiudizi, mettiamoci in ascolto, mettiamoci in gioco. Non cediamo le prime difficoltà o perplessità. È in dubbio, al di là delle proprie convinzioni religiose e di fede, che la Bibbia contiene una sua sapienza. Impariamo a leggerla. Chiediamo chiarimenti quando incontriamo dei passaggi difficili o, appunto, dei passaggi non chiari. E poco per volta scopriremo che è un libro ricchissimo di spunti, di occasioni per riflettere e crescere come uomini e donne e come credenti. Anzi, proprio i dubbi e le perplessità che possiamo incontrare leggendo la Bibbia sono un'occasione per approfondire il nostro cammino umano e spirituale. Buona giornata.